GF VIP, Antonino Spinalbese lascia il vuole andarsene. Gli indizi che i sospettiscono. Antonino Spinalbese vorrebbe abbandonare la casa del grande fratello VIP. Così pare. Nel corso delle reality Lex di Belen ha fatto un percorso molto particolare, da un'iniziale fase in cui è sembrato stare sulle sue. Si è lasciato poi con involgere in alcuni flirt, poi da quando è uscito per motivi di salute ha assunto il ruolo di saggio che cerca di mediare le varie dinamiche. Come se si sentisse quasi superiore agli altri concorrenti. Simona Ventura riprende Antonella Elia, pagato profumatamente, non puoi sfottere lo sponsor. Isola dei famosi, Giovanni Ciacci Naufrago? Lex GF si candida dopo le accusi per il caso Bella Via. Questo è sembrato un atteggiamento sospetto. Antonino fugge ogni tipo di discussione. Ogni tipo di flirt, quasi come se volesse rimanere ai margini delle dinamiche delle reality e alcuni si sono chiesti se stia pensando di abbandonare la casa. L'airstilista più volte ribadito la sua nostalgia per la figlia, la piccola Luna Marie. In diverse occasioni ha parlato della bambina e del fatto che sia il centro della sua vita. Ieri pomeriggio Giaele Dedona è sbottata dopo che Antonino Spinalbese per l'ennesima volta ha detto che vorrebbe andare a casa, ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. No io non vedo l'ora di andare a casa. Sentiamo 10 queste cose da 4 mesi. Quando sei contentissimo di rimanere qua? Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d'oca. In realtà lui fa di quei discorsi. Antonino ha visto il suo contratto scadere a dicembre. M-a accettato un rinnovo. Che stia pensando però ora di andare via. Așa-i betonul, underground, 97 am dat tonul, da nu ca Vodafone-ul, si acum rap-ul e moda onu, așa-i, si zici ca stom ford, la cum mă comport, in treaba asta lui loc de confort, rigor si omor tot, sunt un crucișetor, lansandrachete aerosol, inca de când el era broke si se usa da aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce un niscol, de când ascultam Gangsta Rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor, că știi ca după trimit ciocan umane, înspre cer și dau și-o scarul mare, hati!